Grazie, grazie. Tutti noi facciamo a gara, a chi va più veloce, a chi fa più note, a chi fa il brano più veloce. E allora ho detto voglio comporre un brano velocissimo, ma il titolo ogni volta che lo dico deve essere contro di me. Quindi il titolo è I'm Stupid. E allora ho deciso di comporre un libro che deve essere molto rapido, molto virtuoso, ma il titolo è di pratica contro di me e il titolo è I'm Stupid. One, two, one, two, three. Il titolo è I'm Stupid. 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 Il titolo è I'm Stupid.